Un occhio sulla città, da oggi Pescara sarà ancora più sicura grazie alla Control Room, l'innovativa sala operativa della Polizia Municipale che consentirà il monitoraggio in tempo reale di gran parte del territorio cittadino. Una grande opportunità, si investe in sicurezza, quindi c'è un progetto congiunto tra l'amministrazione e il Ministero dell'Interno, 1.400.000 euro di investimento per potenziare vigilanza e controllo del territorio, potenziare la sicurezza urbana, 900.000 euro messi dal Ministero dell'Interno, la sinergia e la squadra tra inti locali e Ministero dell'Interno è vincente e quindi oggi è una giornata positiva per i cittadini di Pescara e per la sicurezza dei pescaresi. Questo sistema permetterà di potenziare la vigilanza della sicurezza urbana integrando funzionalità di analisi video, intelligenza artificiale e autoapprendimento. Da oggi in poi ci saranno 332 telecamere intelligenti che controlleranno la città e la garantiranno da atti illeciti, atti illegittimi, atti che provocano degrado, atti criminosi. Un'operazione eccezionale perché è come se ci fossero a Pescara 332 agenti della Polizia Municipale in più che controllano tutto il territorio, che parlano in tempo reale fra loro e con la centrale operativa. Questo è un sistema che potrà essere adoperato da tutte le forze dell'ordine, controllerà tutte le macchine che entrano in città, noi abbiamo 130.000 macchine che entrano in città ogni giorno e questo sistema controllerà le targhe di ogni macchina e segnalerà se la macchina è rubata, se la macchina è senza assicurazione, se la macchina ha qualche situazione particolare e la seguirà per tutta la città perché il sistema è connesso, quindi faremo prevenzione ma anche avremo la possibilità di individuare subito gli atti criminosi e coloro che li compiono. Quindi credo che oggi Pescara si sveglia più tranquilla, più sicura e più evoluta perché questo è un sistema che in Italia oggi non ce l'ha nessuna città perché è il sistema più all'avanguardia che c'è.